Noi finiamo con questa magnifica parte, entriamo tutti insieme e sempre per non perdersi di nulla e cerci di farlo la vita. E che io con l'unica questa serata è stata fantastica, ringraziamo tutti voi che siete i nostri più a noi, nonostante questo tempo che non c'è nulla per me, però grazie mille. Grazie mille 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.